Vengo da Nelta alla Sicilia, ma bisogna sentire, insomma, questo grillo sta girando le piazze della Sicilia, la cosa che mi indigna profondamente, davanti a della gente che ha dei problemi serissimi, non c'è lavoro, è un disastro, va a dire la seguente proposta, 1000 euro al mese a tutti per tre anni, per la modica cifra di 100 miliardi di euro, 200 mila miliardi di vecchie lire, lo va a dire a della gente, a dei giovani senza lavoro, a delle famiglie disperate, ma almeno una volta l'auro il pacco della pasta gliela portava, la seconda scarpa gliela portava, almeno era meglio, è una vergogna, ai miei occhi e alle mie orecchie è una vergogna.